ecco se le spegniamo e accendiamo in sala non è meglio a queste registrazioni perché deve essere tutti immortali una volta che è morto lì possiamo morire anche noi anche perché oggi è venerdì santo dunque nice beh l'avete sentito è una delle pagine più più importanti più decisive più tremende perché nice viene sempre letto in modo aforistico in modo oracolare in realtà lui non è un oracolo è vero che ha scritto per aforismi ma scriveva per aforismi perché aveva delle difficoltà visive e dopo una ventina di minuti non riusciva più a scrivere a causa di una paralisi progressiva contratta a seguito di una sifilide che aveva anche la sua volta contratto a 16 anni quando i suoi amici in epoca ginasiale l'hanno portato in un bordello a forta lui ci andò è uscito disgustato si buttò sul pianoforte della hall di questo di questa casa di prostituzione urlando questa è la cosa più umana di questo ambiente intanto però se l'ha preso la sifilide e siccome la sifilide allora non la si curava e la sifilide del lavoro 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 lavora finché arriva bastava un po di antibiotici ma non c'erano ancora e arriva al cervello e quando arriva il cervello incominciano dei vissuti paranoici dissocianti spaventosi nice nasce nel 1944 figlio di un pastore protestante ed è già un genio perché a 44 anni in occasione della morte di suo padre scrive un tic stico in due versi in cui dice man ma graba in gutten mensch avvertur mi che erbara in il bar mensch hanno sepolto un buon uomo ma per me era un super uomo che era la figura di suo padre aveva già quattro anni incomincia a ruotare nella sua testa questa categoria del super uomo che poi nazisti hanno utilizzato per le loro circonvoluzioni intestinali scambiate perché circonvoluzioni cerebrali e questo super uomo in realtà come lo traduce opportunamente vattimo è oltre uomo al di là della modalità con cui l'occidente ha pensato se stesso al di là della modalità con cui si è stabilizzato al di là della logica con cui si è custodito al di là della scienza che si è inventato al di là della religione che ha creato questo oltre uomo che si lascia alle spalle tutte queste cose è questo über mensch al di là non al di sopra bene poi questo povero nice aveva si era anche innamorato di lui salome senza successo naturalmente la quale invece lui salome aveva incontrato prima niccia poi rilke di cui si era davvero innamorata e alla fine freud quindi com'era facile allora per una donna incontrare questi personaggi grandiosi noi incontriamo solo polvere dalla storia in giro non c'è più nessuno interessante comunque e dopo prima di lo salome che che davvero non lo tratta tanto bene insomma anche perché poi lei l'ha invitato a venezia e niccia c'è corso e l'ha trovato a letto con suo amico pol re quindi sapete che gentilezza insomma e poveretto non ha penso conosciuto nessuna nessuna donna nessuna elemento che mi sia innamorato anche di cosima la moglie di wagner tra cui prima era tutto vagnariano poi quando le cose sono guastate è diventato anti wagneriano considera schopenhauer il suo educatore poi rinnega anche schopenhauer scrive in una maniera pazzesca un libro praticamente ogni anno con una capacità stilistica intuitiva e una potenza discorsiva ineguagliabili di questo se ne era accorto anche il più grande filologo allora dell'europa che se era a basilea a cui niccia aveva mandato niccia studente aveva mandato una sua esercitazione su archilo poi una ventina di pagine oggi pensate un po se il professore diceva venti pagine davano sconosciuto se le legge non neanche tesi di laurea dei loro studenti comunque questo si è entusiasmato di questo saggio breve di niccia e l'ha chiamato a insegnare filologia a basilea niccia non si è mai laureato e diventato professore dopo tre anni di studi senza laurea triennale non c'erano quelle porcherie allora non aveva finito gli studi ma la sua genialità consentiva che insegnasse in generale anche all'università anche ora oggi formalmente si può insegnare anche se non si è laureati così come si può diventare papi anche se non si è preti ma nessuno le sa queste cose quindi si proseguono altre strade bene dopo dopo la professione di filologia scrive quell'opera grandiosa che è la nascita della tragedia e dovrebbe essere un'opera di filologia in realtà le opere di filologia prevedono una riga di testa e una pagina di notte una riga di testa una pagina di notte quelli non c'è neanche una nota e tutti i filologi dell'europa si scaraventano contro niccia dicendo tu non sei un filologo tu non sai niente scrive delle cose così a ramparsi in realtà niccia è stato l'unico che ha capito lo spirito greco l'unico di tutti i filologi che sono stati si sono succeduti nella germania nella cultura tedesca e allora niccia si è arrabbiato di questo discredito e se non dato da basilea è cominciato a girare per l'italia andando non so per esempio a requaro dove ha corretto le bozze della gaia scienza a messina a roma a venezia ospite ospite di chi lo accoglieva poi aveva una sorella terribile era tremenda che era sposata con un foster un antisemita violentissimo la quale quando niccia ormai nel 1988 ha perso proprio ormai la mente lo aveva sdraiato su una panca in casa e lo faceva vedere a chi ai curiosi per 12 marchi questo povero niccia raggommito lato su se stesso a offrirsi come uno spettacolo per questa donna tremenda che cosa ha fatto questa donna dopo la sua morte ha raccolto tutto tutti i frammenti postumi postumi nel senso che erano frammenti che non erano diventati ancora libri e li ha combinati in un unico testo che ha intitolato la volontà di potenza traducendolo e falsificando il testo per renderlo omogeneo al clima nazista che non c'era ancora ma che si stava preparando come cultura della prima metà del novecento anzi primi decenni del novecento in germania con delle piccole variazioni non so veri sto danni del river meschi e il super uomo basta fare invece di verbi noi siamo il super uomo fuori era capite che non ci voleva molto dopodiché inizia diventato l'icona del nazismo del fascismo negli anni settanta invece è diventato preda della sinistra poveretti hanno fatto vedere di tutti i colori su povero uomo e comunque il suo pensiero è decisamente potente fondamentale perché perché ha decostruito tutta la filosofia dell'occidente ma quando diciamo filosofia dell'occidente non intendiamo dire qualcosa di astratto dalla filosofia dell'occidente dipende la cultura dell'occidente la cultura intesa come quelle proposizioni quegli immutabili quelle figure teoriche che costituiscono ancora oggi la nostra persuasione la nostra persuasione lui li demolisce a 11 perché filosofa come lo dice col martello filo bisogna filosofare col martello senza ritegno con forza attraverso quale spediente conseguente spediente dunque la filosofia la cultura dell'occidente è stata fondata da un grande filosofo il più grande di tutti a sentire white white dice la storia della filosofia non sarebbe altro che un commento a platone questo grande filosofo che ha inventato la cultura dell'occidente lui decostruisce il platonismo insieme al platonismo decostruisce rigorosamente il cristianesimo da lui considerato un platonismo spiegato al popolo più che una religione e lo fa con una strategia metodologica rigorosissima che consiste in questo non bisogna fare come dice platone chiedersi che cosa sono le cose che cos'è la ragione che cos'è la verità che cos'è il bene che cos'è il giusto se voi leggete platone vi trovate di fronte sempre questa modalità di interrogare una modalità che in greco è tsti che cos'è una cosa no dice non si deve chiedere che cos'è una cosa se noi ciò che ci ha fatto è già fatto a vantaggio di chi ha prodotto la definizione bisogna chiedere come è venuto al mondo questa cosa sostituire cioè alla definizione eidetica quella che coglie l'essenza di una cosa il suo che cos'è la struttura genealogica come è venuto al mondo che necessità c'era che venisse al mondo questa cosa che necessità c'era che venisse fuori un dio solo è una domanda che lui si pone come è venuto al mondo la ragione e risponde per caso bisogna indagare questo caso e trovarne le condizioni per cui questa cosa è venuta fuori e allora è inutile discutere se dio esiste o dio non esiste perché è nata l'idea di dio e il fatto che questa idea è nata vuol dire che ce n'era bisogno che la gente aveva bisogno di questa idea e perché ne aveva bisogno perché solo ciò che è stabile ciò che è immutabile ciò che non si muove ciò che garantisce e costituisce la base a partire dalla quale è conducibile una vita e se un'idea funziona in termini di stabilità questa idea viene ritenuta vera ma questa idea non è vera è vera solo perché funziona la verità non è altro che l'efficacia del suo funzionamento si capiscono queste cose? speriamo, vi faccio degli esempi allora Platone che cosa fa? voi siete platonici senza saperlo adesso vi dico perché siete platonici così dopo destrutturiamo tutti i vostri pensieri sul martello voi siete platonici perché innanzitutto credete nel principio di non contraddizione quando parlate con uno e questo uno si contraddice gli fate notare che si contraddice con questa osservazione ritenete di avere distrutto quel pensiero giusto? e quindi credete al principio di non contraddizione ma cosa vuol dire credere al principio di non contraddizione? credere che una cosa è se stessa e non un'altra che la bottiglia è la bottiglia e non un'altra cosa i principi di non contraddizione è il fondamento della ragione ma è vero? no, dice Nietzsche, non è vero funziona ma non è vero funziona perché non è vero? perché è vero che la bottiglia è la bottiglia ma se io lo scaravento in prima fila diventa un'arma impropria quindi la bottiglia è disponibile per molti significati e il fatto che la ragione ne stabilisca uno solo la bottiglia è la bottiglia e non altre cose è una convenzione che torna utile perché vedete che se io prendo in mano la bottiglia in prima fila non si muove una mosca mentre potrebbero anche terrorizzarsi oppure prendo in mano un coltello che risolto serve per tagliare la bistecca e nessuno si terrorizza perché pensano che io utilizzi il coltello nella modalità convenuta ma il coltello è disponibile per mille cose allora il principio di non contraddizione è vero? no, funziona funziona e cosa garantisce? garantisce innanzitutto la prevedibilità dei comportamenti io prendo un coltello e tutti si immaginano che tagliano la bistecca e basta e lì mi fermo ma il bambino che è più innocente e se voi cominciate a leggere così parlo a Zaratustra vedete che la forma più alta del modo di essere al mondo è quella del fanciullo il bambino che è innocente che non è ancora arrivato alla ragione se gli dà in mano un coltello quello lo usa per come il coltello si offre per mille cose per mille ragioni per mille pericoli per cui i bambini vanno accuditi allora il principio di non contraddizione è vero? no, è valido funziona funziona perché garantisce perché fa un servizio perché fa sì che se io ti dico dammi una bottiglia tu non mi porti una penna perché la bottiglia la bottiglia non è una penna si capiscono queste cose? andiamo avanti la ragione la ragione era inventata Platone perché prima la gente come parlava non parlava in modo razionale parlava attraverso un linguaggio simbolico dove una cosa era se stessa ma anche qualcos'altro anche qualcos'altro di questo vi ho già parlato in un'altra conferenza non mi voglio dilungare altrimenti non arriviamo più a Nice per esempio vi ho raccontato in un'altra occasione che quando Leopardi dice dimmi che fai tolune in ciel se la luna è la luna è inutile fare domande del genere insomma domande del genere si giustificano se la luna è la luna ma nella mente del poeta è anche qualcos'altro un'interlocutrice a cui posso chiedere il senso della mia vita e allora a questo punto c'è un'oscillazione nell'ambito dei significati conferisco alla luna un valore simbolico non è solo quel satellite che gira intorno alla Terra ma anche un'interlocutrice a cui posso porre le mie domande esistenziali e questo ma anche ci fa uscire dalla ragione e sotto questo profilo giustamente Nietzsche dice i poeti mentono troppo dal punto di vista razionale e Heidegger dice sono i più arrischianti perché rischiano la follia perché quando oscillano i significati entriamo immediatamente nel territorio della follia principi della non contraddizione linguaggio razionale Platone ha inventato anche l'astrazione cosa vuol dire astrare che è una prerogativa solo della cultura occidentale astrare vuol dire prescindere dalle differenze che le cose hanno per esempio non so questa sedia può essere diversa dalla sedia dove siete seduti voi il colore di questa sedia può essere il colore diverso dal vostro ma quando dico sedia voi con questa parola vi riferite a tutte le sedie della terra e prescindendo ecco cosa vuol dire astrarre prescindere da dalla corporeità di questa sedia dalla loro forma dal loro colore e cogliere unicamente l'essenza della sedia dispositivo per sedersi non ci importa tutto il resto questa figura dell'astrazione che è nata con Platone che ce l'ha insegnata Platone determina una sorta di grande economia nell'ambito del pensiero perché il pensiero fa prima procedere se non deve stare a curare tutti i particolari delle cose né cattura l'essenza giusto? e però catturando l'essenza e trascurando la corporità delle cose si comincia a mettere la corporità fuori gioco nel senso che i corpi sono diversi se io dico donna penso a tutte le donne della terra ma questa donna è diversa da quella donna da quell'altra donna da quell'altra donna le differenze che sono testimoniate dalla corporità delle cose vengono esclusi dai discorsi il mondo diventa spirituale diventa ideale e la verità consiste sostanzialmente nel catturare l'essenza delle cose prescindendo dalla diversa configurazione che assumono quando queste cose sono incarnate nella loro corporità questa bottiglia è diversa da un'altra ipotetica bottiglia ma tutte e due si dicono bottiglie perché prescindiamo dalle differenze corporee e qui comincia la svalutazione dei corpi che Platone ritiene essere fonte di follia e non di ragione e di follia per la semplice ragione che se vogliamo costruire un sapere universale e valido per tutti non possiamo attenerci non possiamo attenerci alle sensazioni corporee se qui dovessi dire se fa caldo fa freddo se ciascuno dovesse dare il suo risponso sulla base della sensazione corporee avremo tante temperature quanto sono i vostri corpi non arriveremmo ad una oggettività e scientificità della temperatura di questo ambiente e allora come dice Platone se vogliamo raggiungere la scienza se vogliamo raggiungere un sapere universale dobbiamo procedere per numeri idee misure non sensazioni non corpo che subisce passioni malattie diversificazioni da quando è piccolo quando è grande quando è vecchio non è luogo di verità il corpo la verità sta nel catturare l'essenza delle cose se io ho l'essenza dell'oro l'idea di oro posso dire se questa maniglia è d'oro o di ottone ma se non ho l'idea di oro non sono in grado di distinguere l'oro dall'ottone e allora il nostro pensiero deve essere astratto catturare le idee e l'organo preposto alla cattura delle idee alla convivenza con le idee si chiama anima parola inventata da platone per risolvere un problema di conoscenza siccome dei corpi e delle informazioni corporee non possiamo fidarci è necessario che ipotizziamo che ci sia in noi una dimensione altra dal corpo che lo chiamo psichè anima la quale amica delle idee cattura l'essenza delle cose procede per discorsi e ragionamenti senza lasciarsi appesantire dalla corporità delle cose e del corpo che platone considera prigione dell'anima e il corpo deve essere sottoposto a un esercizio di morte melete tuzzanatu nel senso di mortificarlo in modo tale di essere in grado di contenere le passioni gli sconvolgimenti astenersi dalle malattie evitabili e tutte queste cose il corpo viene messo fuori gioco perché non dà testimonianza di verità dice dirà c'è più sapienza nel tuo corpo che nella tua migliore saggezza ma questo vedremo in che senso lo dirà e in che senso ha ragione di dirlo questa cultura dell'anima come in questa maniera Platone inaugura un dualismo anima e corpo che viene poi ripreso dalla cultura cristiana ecco perché Nietzsche dice il cristianesimo non è altro che un platonismo spiegato al popolo dove il corpo viene considerato appunto come il luogo della carne da redimere mentre l'anima diventa il ricettacolo dove parla il Dio Agostino dice in interiorità te anime habitat Deus habitat Christus habitat veritas nell'interiorità dell'anima c'è il luogo della divinità c'è il luogo della verità e questo scenario prosegue nell'occidente e ancora oggi voi siete convinti malauguratamente nonostante le prediche che ho fatto Misano di essere composti di anima e corpo ancora oggi ancora oggi vedete come Platone lavora dentro di voi vedete che non sto parlando di cose strane stiamo semplicemente smascherando quelle persuasioni che condizionano le strutture nel nostro modo di pensare che sono i grandi la grande impostazione che Platone ha fatto per l'occidente e non è un caso che la scienza sia nata in occidente e non è nata in oriente perché è nata in occidente scienza e tecnica perché gli occidentali da 2000 anni erano in grado di astrarre di lavorare con idee numeri misure mentre nel mondo orientale non si pensa per idee non si pensa per astrazioni non si pensa per essenze non si dice l'albero si dice questo albero dalla vita e dalla morte questo albero dalla luce delle tenebre questo albero avete in mente che adesso ogni volta che si va un po' nella cultura anche orientale cominciano quei giochi da Taichi quelle parabole televisive che forma umana in cui si vuole catturare l'energia di quel luogo perché non c'è più il luogo ma ci sarà quel luogo ma non più quell'altro luogo eccetera capite la differenza tra l'oriente occidente una differenza notevole bene tutto questo dice Nietzsche è Platone ma tutto questo è l'occidente tutto questo è la metafisica dell'occidente metafisica regolata da una razionalità rigorosa da un'idea di verità che Platone ha instaurato come corrispondenza orzotes dice Platone come corrispondenza tra la cosa sensibile e la sua idea questa bottiglia per Platone non è la bottiglia l'essenza l'idea di bottiglia infatti ci sono bottiglie tutte diverse tra loro questa è una bottiglia perché imita l'idea di bottiglia perché partecipa all'idea di bottiglia capite queste cose non credo che le capiasse non credo che le capiate e se non le capite vuol dire quanto è radicato dentro di voi Platone orzotes vuol dire corrispondenza questa corrisponde all'idea di bottiglia sì e allora è una bottiglia ma se io non avessi l'idea di bottiglia non so che cos'è sta roba questo corrisponde all'idea di microfono se ho l'idea di microfono sì ma se non ce l'ho non so se venisse qui uno delle tv primitive e vede questa cosa lo potrebbe prendere per un totem se viene qui un bambino non sa che cos'è allora ci vogliono prima le idee delle cose affinché si riconoscano Platone dice che conoscere è ricordare e riaccordare quel che vedo con l'idea che a suo tempo l'anima quando era nel cielo nell'iperuragno ha acquisito la conoscenza delle idee e grazie a questa conoscenza vedendo le cose sensibili stabilisce che queste corrispondono le idee di cui aveva avuto conoscenza a suo tempo il grande Platone che si chiamava Crizia ma l'ha chiamato Plato perché era tozzo e basso come un platano ed allora Platone grande è il filoso più grande davvero mai apparso è in grado di strutturare una cultura un modo di pensare un modo di parlare e noi siamo ancora oggi tutti platonici si chiede Platone ma come è venuta al mondo la ragione che Platone ha inaugurato basterebbe che voi leggete per esempio l'Odissea e vedete che nell'Odissea non si ragiona per non si compiono ragionamenti si compiono similitudini non si dice a iace è forte ma a iace come il leone si fa nei paragoni perché non c'è ancora la ragione come struttura portante non c'è ancora la grammatica Socrate è saggio non c'è la parola profondo per esempio la introduce Eraclito quando uno pensa profondamente si dice che ha molti pensieri polloi molti pensieri non c'è ancora una struttura logica e se i filosofi parlano del verbo essere come l'essere 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 dice ma per forza l'essere perché tutte le parole tutte le proposizioni contengono la parola essere Socrate è questa copula che è diventato con l'oggetto della filosofia e si chiede come spiegherebbero i filosofi occidentali ai caucasici che non hanno la declinazione attiva ma hanno la declinazione passiva non hanno il verbo essere non dicono io sono mangiante ma il cibo mi nutre ecco e allora come farebbero a spiegare la filosofia dell'essere ecco questa cosa qua bene Nietzsche interviene a questi livelli con questo tipo di domanda come è venuta al mondo la ragione e la risposta è una risposta tremenda è venuta al mondo perché c'era un pericolo se non si inventava la ragione si sarebbe piombati in un disastro forse nell'estinzione di un popolo vi leggo un pezzettino in cui dice questa cosa io non porto mai fogli ma qualche volta qualche citazione mi do a farla se si sente la necessità di fare della ragione un tiranno dunque tiranno vuol già dire che la ragione non è la verità ma è un arbitrio convenuto ma un arbitrio se ne poteva inventare un'altra se si sente la necessità di fare della ragione un tiranno come fece Socrate non deve essere piccolo il pericolo che qualche altra cosa si metta a tiranneggiare a quel tempo si indovinò nella razionalità la salvatrice né Socrate né i suoi malati erano liberi di essere razionali era de rigueur era il loro ultimo rimedio il fanatismo con cui tutto il pensiero greco si getta sulla razionalità tradisce una condizione penosa si era in pericolo non c'era una scelta o andare in rovina o essere assurdamente razionali si deve imitare Socrate e stabilire la permanenza contro gli oscuri appetiti una luce di orla la luce di orla della ragione si deve essere saggi perspicui chiari a ogni costo ogni cedimento agli istinti all'inconscio porta a fondo questa è la necessità che induce a inventare la ragione e da dove viene questa necessità viene dalla condizione tragica in cui i greci si sono venuti a trovare perché i greci e non gli altri popoli perché dice giustamente i greci è l'unico popolo che si è trovato di fronte ha avuto il coraggio di guardare in faccia il dolore sembra una pregetta da niente ma i cristiani questo coraggio non ce l'hanno avuto perché il dolore lo guardano in faccia pensando o alla guarigione o alla salvezza in vista di qualcosa di positivo no il dolore proprio quello lì su cui non c'è rimettio quello per il quale gli stoici dicono substine e abstine reggilo substine e astienite dal metterlo in scena hanno avuto il coraggio di guardare in faccia il dolore e cos'è questo dolore? il dolore è la morte gli uomini muoiono al pari degli animali al pari delle piante e sanno di dover morire ma hanno preso sul serio questa scenografia e gli uomini i greci non li chiamano uomo anche se hanno le parole per dire uomo avevano la parola antropos avevano la parola aner non li chiamano così li chiamano all'epoca di Platini o meno lo chiamano brotos che vuol dire colui che è destinato a morire all'epoca di Platone lo chiamano znetos zanatos il mortale il mortale non ci sono speranze ultraterrene si muore come tutte le cose perché si muore? perché siamo elementi della natura elementi della specie la quale può sopravvivere alla sola condizione che gli individui nascano crescano generino e muoiono questo noi siamo c'è un'economia della specie c'è una naturalità c'è qualcosa che ci rende simile all'animale infatti c'è la definizione animale ragionevole unisce e dice questa è una definizione che bisogna abbandonare non abbiamo dell'animale quella virtù animale che si chiama istinto ma abbiamo la consapevolezza invece di avere lo stesso destino dell'animale e la consapevolezza di dover morire mentre l'animale questo non lo sa e qui un'altra breve lettura dice l'uomo chiese una volta all'animale perché non mi parli della tua felicità e soltanto mi guardi l'animale dal canto suo voleva rispondere dire ciò deriva dal fatto che dimentico subito ciò che volevo dire ma subito dimenticò anche questa risposta e tacque sì che l'uomo se ne meravigliò ma egli si meravigliò anche di se stesso per il fatto di non poter imparare a dimenticare di essere continuamente legato al passato per quanto lontano per quanto rapidamente gli corre corre con lui la catena il passato è il luogo della memoria e la memoria è il luogo della nostra identità se non avessimo memoria non sapevamo più chi siamo basta guardare i vecchi colpiti da alzheimer hanno perso la memoria come ne sa anche l'identità osserva il greggio che ti pascono innanzi esso non sa cosa sia ieri cosa oggi salta intorno mangia riposa digerisce torna a saltare e così dall'alba al tramonto e di giorno in giorno legato brevemente con il suo piacere e dolore attaccato cioè al piuolo dell'istante perciò né triste né tediato il vederciò fa male all'uomo perché al confronto dell'animale egli si vanta della sua umanità e tuttavia guardia con invidia la felicità di quello già che è questo soltanto egli vuole vivere come l'animale né tediato né fra i dolori e lo vuole però in vano perché non lo vuole come l'animale e qui siamo fregati noi uomini cioè che cosa ci sta dicendo dice con queste frasi che vi ho letto ci sta dicendo che dentro di noi c'è una lacerazione profondissima di cui i greci ci si sono resi perfettamente conto da un lato noi siamo dei funzionari della specie la natura ci prevede questo continua a stare a bianosso prevede che noi nasciamo cresciamo generiamo moriamo e dall'altro c'è un io che vuole costruire un senso della propria vita e quante volte ci chiediamo qual è il senso della nostra vita qual è il senso del nostro tempo questa categoria del senso questa domanda tremenda che parte dall'economia dell'io il nostro io vuole un senso vuole un progetto vuole un obiettivo vuole una meta da realizzare e allora c'è una lacerazione tra quello che davvero noi siamo semplice funzionare dalla specie destinati alla morte affinché l'economia della specie abbia la possibilità di riprodursi continuare e dall'altro questo sogno dell'io dell'uomo che cerca un senso in vista della morte che è l'implosione di ogni senso incipitragoedia dice questa è la tragedia e infatti quando Remida incontra un satiro sileno i satiri i satiri sono mezzi uomini e mezzi capri non sono a caso i satiri sono anche le divinità della tragedia Pan il dio della tragedia è un satiro mezza capra e mezza uomo cristiani l'hanno fatto diventare il diavolo l'iconografia del diavolo non è altro che l'iconografia di Pan perché c'è la doppia natura tu sei un animale che ha lo stesso uomo sei un animale che ha lo stesso destino degli animali però sei anche uomo sei anche uomo e perciò cerchi un senso nella tua esistenza le due cose non coincidono non collimano perché la natura ti farà morire e tutto il senso che tu produci nella tua esistenza imploderà con la tua morte e Remida chiede al satiro incontrandolo che cosa c'è di più desiderabile in questa vita e il satiro risponde non parmi questa domanda stirpe miserabile ed effimera si riferisce all'uomo stirpe miserabile ed effimera figlio del caso e della pena nasciamo per caso e le pene non ci mancano nella vita figlio del caso e della pena la pena però qui si riferisce alla pena e alle doglie della madre che ci mette al mondo figlio del caso e della pena perché vuoi sapere quello che per te è assolutamente dannoso conoscere meglio per te non essere nato è la cosa migliore che ti posso augurare è di morire presto per non assistere a questa nostra vita impegnata radicalmente in una costruzione di senso in vista della morte non decisa da noi ma dalla specie che determina l'implosione del senso questa è la tragedia i greci l'avevano vista estremamente bene per cui fu di necessità che dice l'ince prima inventarono l'Olimpo che cos'è l'Olimpo l'Olimpo non è altro che la trasfigurazione dell'umano e delle passioni umane nella figura dell'eternità gli dèi non muoiono per il resto sono esattamente simili agli uomini i greci incominciano prima a sognare e attraverso il sogno degli dèi dell'Olimpo inventano che cosa inventano la bellezza inventano l'estetica e l'ince nella tragedia nella nascita della tragedia dice solo come fenomeno estetico forse la vita è degna di essere vissuta con la parola estetica noi dobbiamo fare coinvolgere due significati da un lato estetica è bellezza ma dall'altro lato estetica è una parola che viene dal verbo greco aistanomai che vuol dire sensazione corpo viviamo questo corpo con tutte le sue sensazioni attraverso le sensazioni catturiamo quello che c'è di bello da sentire da vedere da udire da fiutare e questo è il tempo è il tempo della vita solo come fenomeno estetico la vita è degna di essere vissuta ma poi non gli bastò la trasfigurazione olimpica non gli bastò la rappresentazione dell'uomo nel mondo degli dèi e Compratone si è inventata la ragione si è inventata la ragione da quale è in grado di far trapassare le angosce esistenziali in contraddizioni logiche le angosce esistenziali vengono tradotte in problemi che si possono anche risolvere questo è stato il colpo di genio di Platone dice trasferire l'angoscia dell'esistenza in una problematica razionale grande funzione della ragione e poi la costruzione di immutabili che garantiscono la vita nel mondo greco prima della ragione immutabile era il destino ananche la necessità il fatto la moira nei confronti del quale l'uomo non aveva nessun potere poi con la ragione è diventato il sommo bene to agazon quel sommo bene che è al vertice di tutte le idee e le essenze nel mondo iperuranico che è il mondo al di là del cielo dove ci sono le idee di tutte le cose rispetto alle quali le cose del mondo sensibili abbiamo detto prima sono semplici imitazioni con il cristianesimo un altro immutabile che è Dio con la scienza un altro immutabile che sono le regole e il metodo queste formi immutabili ci danno sicurezza e noi diciamo quando la scienza scopre qualcosa è una verità scientifica una verità scientifica dice la scienza mamma mia non è una gaia scienza scienza allegra fa come i bambini la scienza nasconde qualcosa dietro un cespuglio poi lo va a cercare e lo trova l'ha messo prima lei ed è così il metodo scientifico guardato dal punto di vista di Nietzsche prima avanza delle ipotesi poi sottopongo alla natura esperimento se l'esperimento mi conferma le mie ipotesi assumo queste ipotesi come leggi di natura ma quello che conosco è la natura o è la lettura che faccio della natura a partire dalle mie ipotesi ecco qui il ciocchino e lui smonta anche la scienza a questo punto e allora che cosa c'è se a questo punto non conta più niente ma qualche frasetta buona per farvi capire meglio le cose la logica è legata a questa condizione supporre che si diano casi identici allora questi occhiali sono diversi dai suoi occhiali allora noi supponiamo che siano identici poi possiamo parlare di occhiali non importa che i suoi siano diversi dai miei la supposizione che tutte le cose anche se sono diverse nella loro corporeità possono essere trattate come identici fa sì che si possa ragionare con idee numeri misure e molto velocemente è un'economia anche della mente ragionare per essenze e non per figure che cos'è dunque la verità un mobile esercito di metafore e metonimie antropomorfismi in breve una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeticamente e retoricamente che sono trasferite abbellite che dopo un lungo uso sembrano a un popolo solide canoniche vincolanti le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria e poi la scienza se qualcuno nasconde qualcosa dietro un ciaspuglio se lo ricerca nuovamente là e ve lo ritrova in questa ricerca in questa scoperta non vi è molto da lodare eppure le cose stanno in questo modo riguardo alla ricerca delle scienze e alla scoperta delle verità entro il territorio della ragione e della scienza e ha capito questa cosa? ora lui non è contro la ragione non è contro la scienza non è contro Dio questo bisogna capire bene non fa annunciare la morte di Dio da un ateo che è contro Dio che dice che non esiste gli altri sono proprio più lasciamo perdere quelli che credono in Dio hanno una loro configurazione gli altri pensano di contraddirla restando nello stesso cerchio che è il cerchio tu dici sì io dico no ma è l'argomento che ci coinvolge e non è l'altro è il folle fuori da sta logica fuori da sta logica e allora se la ragione ha consentito agli uomini di imparare a parlare di tenere fermo che una cosa è se stessa e non un'altra e quindi di prevedere i comportamenti se Dio ha costituito uno sfondo di rassicurazione le cose devono andare in quella modalità secondo come Dio vuole secondo i suoi comandamenti e precetti di nuova stabilità senza stabilità non cresce una cultura una società senza stabilità noi viviamo nell'imprevedibile e nell'angosciante il terrorismo ce ne fa vedere un po' la sensazione no? il terrorismo ha la caratteristica dell'imprevedibilità ci riporta agli antichi tempi dell'umanità quando l'umanità ha dovuto inventare delle macchine bestiali tra cui per esempio il principio di causalità per riuscire a prevedere l'effetto in presenza di un evento che veniva nominato causa in modo che se c'è un rapporto causa-effetto quando vedo una cosa so che è l'effetto di una causa e mi difendo quindi in anticipo prevedo ecco ci si difende dall'imprevedibile la stabilità è la garanzia dell'imprevedibile la garanzia dell'incalcolabile dice ancora un altro passo ma qui ho perso un po' le cose vabbè fa niente dai cosa vogliono gli scienziati vogliono la regola la regola perché la regola è la maggior difesa nei confronti dell'incalcolabile quasi che l'incalcolabile ci mettessi in uno stato di paura di terrore quindi in un arresto di civiltà quindi la ragione Dio la scienza la tecnica oggi potremmo aggiungere che ad epoca sua non era in circolazione sono strutture di stabilità che ci danno un ordine nel mondo e in questo noi siamo sicuri siamo stabili riusciamo a vivere e sotto questo profilo svolgono un bel vantaggio svolgono un ruolo molto positivo quindi dice non nega non disprezza queste cose come potrebbe fare l'acqua nei confronti di Dio Nietzsche sostiene queste cose però dice non mi è venito a dire che questi sono luoghi di verità questi sono luoghi di utilità è stato utile inventare la ragione è stato utile inventare Dio è stato utile inventare la scienza ma non è vero ciò che dice la ragione ciò che dice Dio ciò che si dice in nome di Dio è ciò che dice la scienza la scienza lo sa di non dire cose vere gli scienziati lo sanno siamo noi che non non lo sappiamo perché la scienza non direbbe mai che quello che scopre è verità la scienza dice che quello che scopre sono esattezze la scienza dice solo cose esatte non cose vere esatto vuol dire ex actu ottenuto dalle ipotesi che ho anticipato se imposto le cose da questo punto di vista ottengo questi risultati se lo dovessi impostare da un altro punto di vista ottengo questi altri risultati la scienza non dice verità dice esattezze dai sbrogliamola la testa impariamo queste cose muoviamoci con più velocità in questo mondo e più abbedutezza se no altrimenti vincono i discorsi dei leghisti sono insopportabili non ce la faremo mai e allora Nice dice sono ancora sono ancora in attesa che un filosofo medico ecco lui vuole un filosofo medico i medici salvano la vita quando ci riescono sono ancora in attesa che un filosofo medico nel senso eccezionale della parola inteso al problema della salute collettiva di un popolo di un'epoca di una razza dell'umanità abbia in futuro il coraggio di portare al culmine il mio sospetto e di osare questa affermazione in ogni filosofare non si è trattato per nulla fino ad oggi di verità ma di qualcos'altro come salute avvenire sviluppo potenza vita basta ha sbancato la filosofia ha sbancato la metafisica intendendo che tutto ciò che la filosofia la metafisica la religione hanno inventato sono condizioni per vivere e reggono finché non arrivano di nuove e più rassicuranti di condizioni per vivere la verità è un esercito di metafori che a furia di essere sentite vengono assunte come vere dimenticando che sono metafore si capisce questo discorso adesso un pochino e allora arriviamo al platonismo spiegato al popolo che è Dio Dio esattamente la riproduzione di Platone nel senso che ho detto prima che Nietzsche dice anche che la tragedia da cui è nata la ragione non è un genere letterario la tragedia è l'essenza della grecità e fuori dalla grecità pre-razionale ed è per questo che dice non fai cominciare la filosofia da Socrate ma la fai cominciare da Apollo e da Dioniso cioè dal mondo degli dei che sono irrazionali Dioniso addirittura è il Dio della follia e Apollo il Dio dell'ordine ecco questa grande contesa tra mettere ordine nel caos ecco non è un genere letterario ma è l'essenza della grecità dopo nel 33 dopo Cristo quando i naviganti navigavano nelle acque dell'Egeo udirono un grande grido il grande pane morto il pane era il Dio della tragedia era il Dio mezzo capro mezzo uomo il grande pane morto nel 33 dopo Cristo e con pane è morta la tragedia perché? perché è arrivato il cristianesimo il 33 dopo Cristo morto risoluzione di Cristo è arrivato il cristianesimo con il cristianesimo non c'è più tragedia perché c'è speranza c'è speranza o illusione ma funzionano tutte funzionano tutte tranquillamente queste cose e il colpo di genio del cristianesimo dice Nietzsche è quello di aver detto ai mortali non morirete mai partita vinta a questo punto la grecità implode e nasce il cristianesimo il quale non aveva nessuna filosofia non aveva nessuna teologia non aveva un bel niente per armarsi contro una grande religione che allora c'era di origine platonica che era l'agnosi si mette a rapinare Platone il grande rapinatore Sant'Agostino Agostino il quale assume il dualismo platonico mondo sensibile mondo sovrasensibile lo trasforma in terra e cielo in città celeste città divina e città terrena disprezza del corpo carne da redimere salvezza dell'anima che nella tradizione giudaico-cristiana non esiste l'anima non c'è non c'è neanche la parola lo stesso San Paolo quando pensava che i cristiani venissero assunti in cielo quando gli dicono che sono morti dice e allora risorgeranno non risorgerà l'anima risorgeranno con un corpo d'aria pneumaticoso soma perché gli manca la parola non c'è la parola anima nella tradizione ebraica e neanche in quella cristiana e se non credete a me che non credi in Dio andate a credere in teologi che vi confermano a partire da Enzo Bianchi che dice non si deve mai parlare di anima che non esiste bisogna parlare di interiorità senza confondere con l'interiore se no cominciamo di nuovo a fare disastri bene Dio è morto avete sentito prima l'annuncio un folle uno che è fuori dalla logica Dio esiste Dio non esiste perché quando uno muore vuol dire che prima era vivo e se era vivo il mondo funzionava come Dio vuole ecco qua questo che mi interessa la verità è solo una verità storica è accaduta questa storia quindi l'idea di Dio era valida perché se non c'era l'idea di Dio non nasceva il medioevo non nasceva il rinascimento non nasceva neanche l'evoluzione francese che non aveva bisogno di abbattere la religione non nasceva neanche il marxismo l'idea di Dio è un'idea potente che ha organizzato l'occidente dire che Dio è morto vuol dire che ormai il mondo non si organizza più intorno a Dio e quindi è morto non funziona più non genera più non produce più effetti di realtà ecco cos'è la verità di Dice produrre effetti di realtà non so nel medioevo non capiremo niente nel medioevo se è vero che non so la letteratura di cosa parla nel medioevo l'inferno purgatorio paradiso l'arte cosa fa vedere l'arte sacra nelle chiese anche le donne sono donne e angelo se tolgo Dio non capisco niente di quell'epoca ma se togliamo Dio dal mondo contemporaneo la capiamo ancora a nostra epoca sì altro che non la capiremo più se togliessimo la parola denaro se togliessimo la parola tecnica ma se togliamo la parola Dio quindi Dio non fa più mondo è un'idea che non serve più perché il mondo non accade più come Dio vuole secondo i comandamenti di Dio ma siccome su Dio era impostata tutta l'attrezzatura dei valori dell'Occidente tutta l'attrezzatura dei valori dell'Occidente prima in quelle metafore che avete sentito cantare per bene da quell'attrice chi ci ha cancellato l'intero orizzonte senza più Dio come punto di riferimento da cui scendevano i precetti i comandamenti i valori la famiglia l'educazione la pietà la misericordia il perdono tutte ste cose non ci sono più se va via quello se si congeda Dio è finita questa storia qua chi ha cancellato l'intero orizzonte dove andiamo precipitando in alto in basso ai lati senza più un riferimento non cinghiotte un intero un grande nulla ecco queste sono le cose cose diventate ormai cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio andate in una chiesa oggi avete esattamente la realizzazione di questa profezia e allora e allora se Dio muore colassano tutti i valori e incomincia un tempo che si è al di là del bene e del male perché non c'è più una regola come fa a stabilire cosa è bene cosa è male prima c'erano i comandamenti che se stavi a quelli eri nel bene se li trasgredivi eri nel male ma una volta che colassano come fai al di là del bene e del male l'altra opera di Nietzsche e e se non ci sono più i valori svalutazione di tutti i valori e qui dice non è che i valori erano veri prima perché no perché attenzione anche qui dice i valori non sono voce del verbo essere tantomeno sono veri o autentici i valori valgono cosa vuol dire valgono? valgono se una comunità fa valere ecco valgono valgono per tutti li fa valere certi valori quella comunità si organizza intorno a quei valori e fin quando è organizzato intorno a quei valori finché quei valori sono fatti valere allora chi genera i valori? Dio? no sono le comunità che generano i valori ma i valori per valere non bisogna dire che sono le comunità che le generano bisogna attaccarle a qualcosa intorno a cui l'uomo non ha potere bisogna attaccarle a Dio esattamente come il potere adesso diciamo che è nato dal popolo una volta chi te l'aveva dato il potere? Dio la lotta delle investiture che cos'era? se non il fatto che tu eri il re te lo diceva il papa che ti incoronava perché lui è il depositare dalla parola di Dio e il nome di Dio si diceva che era re il potere lo fondavi su Dio ma una volta che Dio è morto questo non ci interessa in realtà il potere il potere è figlio di volontà di potenza dice Nice se la regina d'Inghilterra è regina perché perché la sua casa il suo casato ha combattuto quell'altro casato e ha vinto cosa che dirà anche Marche cos'è la proprietà privata se non quella degli usurpatori che l'hanno fregata agli altri e questa proprietà privata all'inizio come si fa a stabilire questo è mio come ha fatto a stabilire in America così no? come nasce per diritto divino proprietà privata ma se la proprietà privata è sacra è sacra se c'è Dio che mi dà il suggerimento della sacralità se il potere funziona è perché Dio te l'ha data quando il Papa scomunica barbarosa quel povero barbarosa non è più ubbidito dal popolo e deve andare dalla Germania a canossa inginocchiasse per tre notti per avere la remissione dei peccati ed essere reintegrato nella sua sovranità dall'ordine religioso perché se i valori sono costruiti da noi e noi lo sappiamo non hanno lo stesso valore che se discendessero da Dio chiaro sto discorso? o buono? allora se i valori i valori non sono ma semplicemente valgono finché sono fatti valere quindi non sono realtà metafisiche quando io sento in giro dire oggi i vecchi soprattutto quelli che hanno la mia età insomma quella roba qua che dicono ai miei tempi c'erano dei valori nei tuoi tempi e si lamentano si lamentano perché hanno perso la giovinezza la sessualità la fantasia l'incantamento di valori quello che ti lamenti dai un po' di onestà nelle cose insomma ma i valori no? valori difendiamo i valori dell'Europa sentiamo dire tutti i giorni mi prego ragazzi finisce il martello picchierebbe sulle labbra di quelli che usano queste parole e non c'è verso di convertirli non c'è verso i valori della democrazia come se le vostre vite dipendessero dalla democrazia o dipendessero dalla BCE dalla banca europea da chi dipendono le vostre vite dalla democrazia dai e continuiamo a dire la libertà la libertà ce ne hanno quelle che hanno i soldi quelle che non ce ne hanno non sono tanto liberi vabbè ha già detto Marx 150 anni fa la libertà la democrazia ma cosa continuiamo a raccontarci queste storie facciamo quel che possiamo possiamo uscire di casa adesso già non più tanto non perché ci sono gli immigrati ma perché ormai caduto il tabù della sessualità diventa tutto pericoloso ma lasciamo perdere che non ci interessa e allora incomincia l'epoca del nichilismo nichilismo due punti dice Nietzsche manca lo scopo manca la risposta al perché tutti i valori si svalutano che valore si svaluta abbiamo visto che non è importante si svalutano tutti quelli che erano attaccati a Dio ma dire che si svalutano quei valori lì vuol dire collasso della morale collasso della morale pensateci se non è vero quindi la morale il bene e il male sono indistinguibili una volta che collassano certi valori che avevano fissato cosa è bene che cosa è male se prima fare l'amore prima del matrimonio era male adesso non è più male e allora è collassata quella cosa lì una volta che è collassata quella cosa lì come fai a distinguere quella morale lì non funziona più ma una volta funzionava e come funzionava fino addirittura a subire delle conseguenze notevoli progresso della civiltà no semplicemente collasso di una morale poi ne nascerà un'altra anzi adesso non ha più bisogno anche di nascere più nessuna morale perché ormai le regole le pone la tecnica in maniera rigorosa o funzioni o non funzioni o sei produttivo efficiente raggiungi gli obiettivi se non ho cuori e quindi per quello che siamo tentati tutti i morali perché c'è una catena più forte della moralità della morale che è la struttura tecnica ma abbiamo già parlato questa cosa l'altra volta soprattutto questo manca lo scopo manca lo scopo vuol dire manca il futuro lo scopo è davanti a me lo scopo scopeo in greco vuol dire guardare avere un obiettivo davanti a te da cui le parole endoscopia telescopio microscopio ecco manca lo scopo manca il futuro manca il futuro vuol dire che se non c'è un futuro colassa anche tutto il senso dall'al di qua se non c'è un al di là dove il mio dolore verrà ricompensato dove la mia vita giusta sarà premiata e riconosciuta e l'ingiusto punito è cacciato in inferno se non c'è più questo al di là anche l'al di qua non acquista più senso perché devo essere giusto perché devo essere buono se questo non incide nel futuro in quel futuro è caston in quel futuro no scusate è scatologico che mi sta davanti come fine del mondo è regolamento di tutti i conti manca lo scopo di conseguenza manca la risposta al perché perché sono al mondo e cosa ci faccio se la mia esistenza è contenuta tra una nascita del caso è una morte decisa dalla natura a prescindere dal senso che ho costruito la morte di Dio non è una robetta da quattro soldi e lui l'annuncia con molta forza dopodiché quando sento dire che Nietzsche è un nichilista veramente ma gli leggo nei libri questi qui che parlano non è nichilista annuncia il nichilismo conseguente alla morte di Dio colassa il mondo quel mondo per esempio non so i giovani sanno benissimo che manca lo scopo il futuro non lo vedono manca la risposta al perché sono al mondo ma di questo abbiamo parlato loro lo percepiscono molto più di quelli della mia generazione e allora in un contesto di questo genere che succede succede che colasso del cristianesimo che non è altro che la ripresa popolare del platonismo colassa all'occidente tutte le regole che avevano tenuti insieme questa cultura e questa civiltà se ne vanno se ne vanno Nietzsche dice che l'input di questi suoi pensieri gli era dati un filosofo che c'era prima di lui che si chiamava Schopenhauer e anche Freud dice che la psicanalisi non è stata inventata da lui ma è stata inventata da Schopenhauer due paroline su Schopenhauer e poi vi lascio liberi nella mente in modo tale che potete acquietarvi nei pensieri platonici di stabilità Freud Schopenhauer dice che dentro di noi ci sono due realtà due nature la specie e l'io il mondo la specie è animata da una volontà irrazionale volontà è il modo con cui l'abbiamo tradotto abbiamo tradotto ville sì che vuol dire volontà ma blinde cieca volontà cieca volontà irrazionale nel senso che la natura tende al suo mantenimento alla sua prosecuzione a che scopo? la natura è assolutamente affinalizzata non c'è nessuno scopo per cui la specie deve conservare se stessa no? non c'è scopo volontà volontà irrazionale senza scopo senza fine non c'è ragione e questo è il tratto forte della nostra della nostra struttura antropologica che si esprime in quelle due pulsioni che non riusciamo non possiamo controllare che sono la pulsione sessuale che serve alla specie per la riproduzione e la pulsione aggressiva che serve per la specie per la custodia della prole gli animali difendono la prole in maniera aggressiva no? queste due pulsioni costituiscono l'inconscio di Freud che inconscio non vuol dire che non conosciamo niente inconscio vuol dire che non ci pensiamo mai dice giustamente il ma per esempio ormai è diventato inconscio anche tutto il nostro vivere con la tecnologia perché quando andiamo in casa e accendiamo la luce è inconscio tutto il processo per cui la luce si accende schiacciando un tasto e ci accorgiamo dell'importanza della luce quando non c'è così come ci accorgiamo della mancanza del gas quando non c'è è l'assenza che ci fa capire quanto siamo assistiti a nostra insaputa tutto ciò è diventato inconscio ebbene è inconscio il fatto che noi diceva Schopenhauer allettati dal piacere sessuale rendiamo servizio alla specie e infatti è sufficiente che voi considerate una mamma una ragazza che diventa madre cosa proprio vera retta dal punto di vista del suo io degli interessi del suo io è un vero disastro perché deve assistere alla trasformazione del suo corpo al trauma della nascita all'allattamento al sequestro del suo tempo del suo spazio del suo lavoro dei suoi amori che magari non sono solo per il figlio e per il marito e allora dal punto di vista egoico dal punto di vista dell'io è un disastro è un disastro però la specie ci ha messo dentro questa pulsione della generazione che serve a lei non a te tenendo conto poi che i figli deve curare da piccoli fanno disperare nell'adolescenza da vecchi ti mandano la bagina quindi non so dal punto di vista egoico veramente no ma guardiamole in faccia le cose smettiamole di guardare le cose dal punto di vista buono che non c'è questo buono di un momento va bene allora c'è questo allora Freud dice le pulsioni dell'aggressività e della sensualità sono il nostro inconscio la quale agiscono al di là della nostra coscienza al di là della nostra deliberazione al di là del nostro contenimento al di là della nostra capacità razionale e il suo scopo è quello di colonizzare questo mondo inconscio dove c'era l'ess l'ess è la parola che usa Freud che è il pronome neutro latino perché non può chiamare l'inconscio io perché non è l'io l'io è razionale lo chiama ess possiamo tradurlo con esso dove c'era dove c'era l'ess deve subentrare l'io la razionalità questa è opera di civiltà Freud è platonico Platone puro Platone puro e tutti quanti pensano che Platone sia un sessuale ma se uno che bastona la sessualità e la punisce teoricamente praticamente proprio Freud perché la vede come una dimensione dissolvente alla società Nietzsche invece cosa dice dice ah sì allora il nostro io vive solo di illusioni di maschere no Schopenhauer diceva come facciamo a difenderci dalla natura che ci tratta come dei gioppini ci tratta come degli strumenti per la sua conservazione e non per la nostra conservazione e tra le varie cose proponeva tre vie uno è la belletta uno è l'arte e l'altro era la compassione sapere che questo è il destino di tutti no? un malcomune e mezzogaudio in qualche modo non è proprio così ma tra l'altro per capirci e da ultimo la castità la castità perché attraverso la castità se nessuno più fa fa l'amore e non nascono più figli la natura resta fregata resta basta finita la storia la crudeltà della natura che ci prevede solo come suoi funzionari senza conferirci uno straccio di senso alla nostra esistenza e noi che ci conferiamo uno straccio di senso e ce lo cerchiamo continuamente perché non siamo solo caproni ma abbiamo anche mezza parte umana ecco che allora in quella dimensione cerchiamo un senso in vista della morte che è l'implosione di ogni senso fine io sono veramente stupito ogni volta che muore qualcuno è morto ecco che io ammiravo tantissimo un mese fa due giorni di tamburi poi basta fine più niente stop ma dico ecco dico Lucio Dalla per un giorno ci fa sentire tutte le sue canzoni poi più niente quindi avete la misura di questa cosa ecco invece allora Nietzsche dice ah sì questa è la situazione e allora astinenza allora come dice Schopenhauer castità astinenza sarebbe meglio dire no dice no e se è vero che tutti i miei progetti se è vero tutti i miei sogni se è vero che tutte le mie ricerche di senso sono illusioni sono maschere per poter vivere bene allora dice dammi una maschera ti prego una maschera ancora più maschera che si può più illusioni che si può perché in qualche modo devo pur esistere ma con l'avvertenza che non scambio le illusioni per verità non scambio le illusioni per verità è l'uomo che è uscito dal platonismo che è uscito dalla distinzione tra il bene e il male che si è convinto dalla morte di Dio e che la ricerca di senso non è altro che un'illusione che ci serve per vivere siamo ancora al tema del filosofo medico non si tratta di verità ecco allora è un oltre uomo è un uomo nuovo un uomo di un'altra generazione un uomo che viene fuori da quell'uomo che l'occidente ha pensato a partire da Platone e che nel primo capitolo di Zaratustra Nisha rappresenta come un cammello che si porta al peso della morale e poi dopo diventa leone questo cammello per aggredire ma dice la verità dell'uomo quando diventa fanciullo e nella condizione di fanciullo il mondo ti si apre al di fuori della ragione e ti spiega tutti i suoi sensi che sono comunque illusioni e all'interno delle illusioni devi vivere sapendo che sono illusorie chiudo con l'ultima citazione poi non parlo più in un angolo remoto dell'universo scintillante e diffuso attraverso infiniti sistemi solari c'era una volta un astro su cui animali intelligenti scoprirono la conoscenza fu il minuto più tracotante più menzognero della storia del mondo ma tutto ciò durò soltanto un minuto dopo pochi respiri della natura la stella si irrigidì e gli animali intelligenti dovettero morire qualcuno potrebbe inventare una favola di questo genere ma non riuscirebbe tuttavia a illustrare sufficientemente quanto misero spettrale fugace privo di scopo e arbitrario sia il comportamento dell'intelletto umano contro la natura vi fu un'eternità in cui essa non esisteva quando per lui tutto sarà nuovamente finito non sarà avvenuto nulla di notevole per quell'intelletto di fatti non esiste una missione ulteriore che conduca al di là della vita umana esso piuttosto è umano e soltanto chi lo possiede lo produce può considerarlo tanto pateticamente come se i cardine del mondo ruotassero su di lui abbiamo finito grazie vediamo se ci sono alcune domande da fare a Umberto Calimberti dopo questa intensa profonda introduzione di Alice e non solo ecco il primo intervento qua 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 microfono dov'è vieni qua Sara qua pensavo che ce l'avevi tu io sono qua buonasera professore io l'ho sentita tante volte e da non credente ogni volta io mi trovo a mio agio nelle sue parole però penso ai credenti in sala questa sera e credo siano esentati dalle prossime dieci vie crucis perché combaciavo questa sera quindi questa sera per un credente credo sia una via crucis parla un po' più distante scusi parlo così va bene va bene va meglio ok seriamente volevo chiederle questa cosa non è che Dio è morto e dobbiamo cominciare ad occuparci di Cristo perché Cristo non è morto quella figura io parlo da non credente c'è una cosa molto bella che ha fatto Caravaggio dipingendo un quadro che molti lo contemplano come un omaggio in realtà è una grande bestemmia che è la cena ad Emmaus nella cena ad Emmaus di Caravaggio c'è proprio l'atto benedicente e nel momento in cui Cristo scompare Caravaggio lo rende eterno cioè coglie il momento di un passaggio che sarebbe l'ultimo però che cosa fa con questo gesto che per un credente dovrebbe essere quasi una bestemmia perché nega la natura di un'ascesa di una resurrezione perché rimane in questo modo un coro umano è un commensale Cristo a me viene da pensare che rimanendo lì non siamo solo forse funzionari della specie da un punto di vista del riprodurci ma c'è qualcosa che il concetto di eternità noi ce l'abbiamo e l'arte quello che noi produciamo non è funzionale della specie quindi sfugge a una logica però questa cosa ci costringe a credere e l'uomo quindi è producente un qualcosa di un senso che noi non possiamo rifiutare allora su questo mi chiedevo non è che stiamo andando in questa direzione che il nichilismo è pensare a un cielo senza Dio ma con la figura di Cristo perché io vedo tante immagini cristologiche Dio ha ragione lei è scomparso io poi da non credente non è mai comparso o meglio la penso esattamente come lei su questo ma Cristo Cristo continua a esprimere un senso e questo lo ha espresso il cristianesimo e quindi non so le volevo chiedere questo in maniera forte allora quando uno comincia a dire io non sono credente mi arriva una predica sono sicuro subito dopo non è vero non è vero perché altrimenti no le dico questo due cose allora prima cosa dal punto di vista semplice ne converrebbe a questo punto leggere l'anticristo di Nietzsche un'opera di Nietzsche si chiama l'anticristo lo legge in un giorno nelle tante pagine qui ti fa vedere in qual modo che se non era per San Paolo Gesù Cristo con la sua percepizione morte la cosa finiva lì e ti fa vedere che San Paolo è stato il vero inventore del cristianesimo e l'ha inventato perché San Paolo era un uomo colto parlava latino greco ed ebraico ha fatto una lotta tremenda con Pietro nel primo concilio concilio di Gerusalemme perché Pietro voleva che chi si sarebbe convertito al cristianesimo avrebbe dovuto prima convertirsi all'ebraismo con la circoncisione poi dopo al cristianesimo Paolo invece ha detto no si diventa cristiani semplicemente per una fede in Cristo ma se non c'era Paolo colto intelligente fosse cristianesimo sarebbe morto con Gesù Cristo questo dal punto di vista della ricostruzione niciana che però sono in molti a ritenere effettivamente che il cristianesimo è stato fondato di fatto da San Paolo e non è un caso che nella messa prima del Vangelo si legge un epistolo di San Paolo e non per esempio di Sant'Agostino San Pietro San Gerolamo tutti i santi della terra come mai San Paolo perché è il vero fondatore del cristianesimo secondo dal punto di vista teorico non cambia niente perché Gesù Cristo parla di un padre si può credere a Gesù Cristo a pezzetti Gesù Cristo parla di un padre parla di un giorno del giudizio parla di una vita eterna parla di un regno che non è di questo mondo ma allora tutto questo è ancora platonismo e cristianesimo se c'è un altro regno se c'è un'altra vita non siamo più nel gioco tragico della grecità e siamo già ormai non importa che invece Dio è morto ma ci garantisce Cristo che di là e allora siamo ancora al livello di prima il problema è che ci fa una gran fatica ad abbandonare le certezze secolari ma Nietzsche non vi dice di abbandonarle se ci state bene vi servono per vivere perché no perché no tutto quello che serve visto che siamo così sfigati che ci troviamo nella condizione di dover eseguire le leggi di natura nasciamo per caso e moriamo per decreto della natura e nel frattempo siccome abbiamo la conoscenza quella famosa conoscenza di cui leggevo nell'ultima lettura è quella che ci sprona a cercare un senso nella nostra vita questo senso dopo che l'abbiamo ben costruito implode con la nostra morte non resta più niente e allora a questo punto tutto quello che ci fa vivere usiamolo usiamolo io non ho niente contro quelli che credono in Dio se con questo pensiero passano meglio le loro giornate perché no perché no la cosa importante è che non me la scambiano questa fede con la verità e tantomeno con la verità assoluta perché se no lì mi arrabbio perché no ciascuno si tenga le sue illusioni le tratti pure come verità tolga quell'aggettivo assoluto perché con le verità assolute delle religioni nascono le guerre che stiamo assistendo oggi non è un caso che i popoli più belligeranti i popoli più belligeranti vengano tutti da una religione ebraica sono tutti figli di Abramo no da lì è nato l'ebraismo è nato il cristianesimo è nato l'islam tutti i figli di Abramo tutti che hanno il Dio dalla loro parte e quindi è un Dio diviso che si fa la guerra da solo ecco cosa succede a questo punto che le religioni monoteiste per definizioni sono intolleranti e aggressive per definizione e lo sono intolleranti e aggressive perché se io dico che io possiedo la verità assoluta tu sei un infedele punta a capo e quando la Chiesa governava l'Occidente come abbiamo visto che l'ha governato nel Medioevo nel Rinascimento con l'Inquisizione tutto il mondo era cristiano tra le te che non si diceva neanche più è un uomo ma si diceva anche lui è un cristiano ancora i nostri non dicevano ah è un cristiano per dire un uomo a posto di uomo si diceva cristiano guardate come è rientrata la cosa è chiaro che allora in un contesto di questo genere se io sono la verità assoluta l'altro è un infedele ed è subito guerra l'impero romano perché è stato in piedi così tanto tempo è stato in piedi per il semplice fatto che era una religione politeista e quando andava a conquistare territori più barbari più lontani che c'erano assumeva gli dei dei popoli e li metteva nell'Olimpo punto e a capo tanto ce n'erano già tanti qualcuno di più qualcuno di meno non creava problema l'unica cosa che si chiedeva è di adorare la divinità dell'imperatore e siccome né ebreni cristiani volevano far questo allora lì la guerra è cominciata con loro con loro ma però la tolleranza inizia dice in un passo stupendo così parlò Zaratustra dice che gli dei morirono dal gran ridere quando udirono che un dio voleva essere il solo e gli dei si sono messi a ridere sono morti dal ridere scoppiati proprio però noi abbiamo pagato duramente l'intolleranza della religione monoteista perché le guerre sono tutte guerre perché la religione non è solamente una fede la religione è un costume la religione è una cultura la religione è uno stile di umanità la religione è antropologia e mettere in questione una religione e mettere in questione un'antropologia e quindi è guerra ed è subito guerra non c'è niente da fare in questo senso un po' di laicismo sarà l'unica salvezza solo che laicismo lo pratichiamo noi se non altro per consentirci di fare qualche peccato in più rispetto a una volta ma niente di più serio altre domande? qua ecco si sente che riferimento c'è tra la tecnica e solo un'altra nuova morale tra la tecnica e un'altra nuova morale la tecnica non ha bisogno di distinguere bene il male non ha bisogno di questa perché la tecnica è la prima espressione umana non dualistica cosa voglio dire? che la morale si fonda sul dualismo bene male la religione si fonda sul dualismo eterodosso ortodosso cioè vero o falso la giustizia si fonda sul dualismo giusto ingiusto tutto è dualistico in occidente la tecnica no è monistica perché anche se fallisce anche se fallisce e quindi sarebbe errore per risolvere questo errore deve ricorrere ancora a lei se scoppi una centrale nucleare non è che fai processioni ricorrere la tecnica per aggiustarla o per sopprimerla quindi la tecnica vive dei suoi errori si alimenta del negativo non ha un contrapposto a sé ma soprattutto impone delle regole ferre perché siccome è regolata dal principio della razionalità raggiunge il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi tutti noi andando a lavorare ci troviamo regolati da questo tipo di logica è un tipo di logica che fa sì che tu devi raggiungere gli obiettivi con l'impiego minimo del tempo e magari anche con l'impiego minimo dei soldi che ti devo dare alla fine del mese e magari aumentandoti un po' la sticella degli obiettivi da noventuro in modo tale che tu sei funzionale e finché sei funzionale e se funzioni bene in termini di efficienza e produttività mantieni il posto di lavoro altrimenti vai a casa ma solo che se non hai più il posto di lavoro ti trovi anche espulso dalla società cosa che la morale non faceva con i peccatori li puniva ma non erano perciò stesso esclusi dal sociale ecco e quindi c'è una morale ben più forte c'è una cogenza più forte della tecnica nel regolare i costumi poi dal punto di vista di quello che per la morale era bene male morale o immorale alla tecnica non gli importa niente tu puoi fare orgi venerdì sabato e domenica puoi bucarti puoi drogarti puoi ubriacarti l'importante è che ti lavi bene dentro e fuori e non è di sei lì bello pronto a lavorare come Dio vuole se stai a questo regime qualche fai sabato e domenica nel cosiddetto tempo libero che poi tra l'altro è un tempo comandato anche quello alla tecnica non gli importa niente è per quello che degradiamo dal punto di vista morale perché la tecnica non ce lo impedisce a me importa solo che tu sia efficiente basta altre domande? allora mi viene da raccontare una storie una storiellina che secondo me c'entra molto con quello che ha detto lei stasera c'è qualcosa di autobiografico la morte di Dio io da piccolo sono andato a catechismo ma ci sono andato troppo tardi perché ho aspettato di fare la comunione con mia sorella e sostanzialmente Dio non è mai non ha mai fatto click dentro di me io quando ho fatto la comunione provavo a pensare Gesù accogliere Gesù ma di fatto non mi è entrato dentro quindi Dio dentro di me non è che è morto non c'è mai entrato e mi ricordo che il prete mi telefonò perché non andavo a catechismo e io dissi no no ma la fede io ce l'ho non la perdo anche se non vengo in realtà mi si è sciolta dentro come un pallino perché di fatto non c'era mai stata era cominciata troppo tardi e facevo i cavoli miei prima poi invece quando sono stato molto più grande curiosamente avevo 33 anni è morta mia madre mi è venuta mi ricordo che sono rimasto molto impressionato perché mi è venuta una tentazione di credere che ci fosse qualcosa oltre fortissima e mi è quasi venuto in mente che la fede la religione nasce dal culto dei morti nasce in realtà dalla volontà di rimanere in contatto e sono stato lì lì cioè ho cercato di resistere in nome dell'uso della ragione poi è un percorsino ma credo che sia carino poi verso i 20 25 poco dopo poco dopo che è morta mia mamma ho letto un libro che parlava che parlava il rapporto della dimensione X che parlava di una ventina d'anni di incontri medianici in cui sostanzialmente c'era un'entità che parlava ma non la dico come credere in queste cose la dico soltanto questa entità diceva ed era la prima volta che io incontravo questo concetto diceva la vita non è altro che nascere fare l'esperienza della materialità e bisogna viverla il più pienamente possibile poi si crepa e si torna nell'aldilà allora era un'ipotesi veramente suggestiva cioè sostanzialmente che cosa mi si diceva che cosa si diceva lì qual è il senso della vita vivere punto il senso della vita è vivere allora e mi veniva in mente questa cosa qui a proposito della morte di Dio della religione della scienza del contrasto quello che conta veramente e quindi il senso di credere come utilità quello che veramente conta allora è credere avere fede non importa in cosa quello che veramente conta è fare click perché se fai quel click ti viene un'energia una forza incredibile molto superiore a rimanere nella situazione di dubbio nella situazione del dubbio e allora mi viene da dire il senso il senso della vita ciascuno dato che sostanzialmente e se ne è parlato bene stasera il senso della vita ho quasi finito dato che il senso della vita non c'è ma quello che conta è la fede qualsiasi si può anche credere che gli elefanti rosa sono la verità e che gli elefanti rosa che volano sono la verità ma se è utile per la tua vita e riesci a fare i click la tua vita è a posto sì bisogna fare lo sport è quello che dice Nietzsche insomma bisogna fare lo sport e trattare di indossare tante maschere o tante illusioni sapendo però che lo sono ma solo che come si fa credo che è un'illusione si sta sul filo del paradosso sapendo che è un'illusione altre domande passiamo il microfono così ascoltiamo tutti chi parla? chi parla? pochi giorni fa nella biblioteca di Trigli c'era questa manifestazione della biblioteca di Vento ma ce l'ha il microfono se no parla da sola non ce l'ha un minuto che glielo passiamo e così ascoltano tutti allora pochi giorni fa nella biblioteca di Rimini c'era una manifestazione che si chiama mi sente professore? tenetelo un po' distante il microfono non fate come i cantanti che lo mangiano c'erano 20 centimetri scusami eh dai così va bene così così va bene mi sente? si parli forte con il microfono a distanza perfetto allora ci siamo allora pochi giorni fa nella biblioteca di Rimini c'era un evento che si chiama la biblioteca vivente e sostanzialmente succede questo ci sono persone di diverse etnie ma anche persone italiane che in qualche modo raccontano la loro storia e diciamo che l'interesse di questa cosa è abbattere le barriere nei confronti del diverso io ho fatto questa scelta ogni utente poteva fare una scelta e ascoltare una certa storia io ho scelto di ascoltare la signora che si è convertita all'Islam e quello che mi ha meravigliato è una signora italiana cresciuta a Rimini la prima cosa che mi ha detto è a me non piaceva avere una religione con tanti santi con Dio Cristo la Madonna voleva una religione con un solo Dio questo mi ha stupito molto mi chiedo perché questo bisogno? Platone sarebbe stato d'accordo con questa ragazza che ha raccontato questa cosa perché se lei ci fa caso anche la scienza sarebbe d'accordo perché fa scendere tutto da un principio il principio di tutte le cose la filosofia è iniziata cercando qual è il principio di tutte le cose quando tu hai trovato il principio ti pari di possedere tutte le cose perché hai trovato il principio generativo esplicativo del mondo e questo era sicurante il problema è che questa ragazza quando dice divento islamica perché lì c'è solo un Dio a parte che l'Islam è pieno di angeli anche non ha i santi ma è pieno di angeli però lasciando perdere questa variazione se c'è un solo principio che spiega tutto e io credo in questo principio in qualche modo ho il mondo sotto controllo affinandomi a questo principio dopodiché invece noi cattolici siamo un po' politeisti abbiamo sostituito agli dei greci che avevano la loro bellezza come dimostrano le statue che abbiamo occasione talvolta di ammirare abbiamo sostituito dei greci con le loro passioni con i nostri santi ciascuno insomma perché è qualcosa di più accessibile Sant'Antonio Santa Rita Santa... almeno riferendomi riferendomi alle mie donne e alle mie zie adesso non so però i santi sono sempre dei volti umani di una fede io non trovo niente di male il male consiste nella fede che si spaccia per verità quello è il vero male altra domanda un'altra se c'è un'altra possibilità prego dove? se l'hai vista? ah no ascolta vieni qui grazie ho questo guarda molto breve ho letto Siddhartha ultimamente come si può vivere senza cercare l'io senza di noi lui cerca di allontanarsi dal suo io che lo depista come possiamo fare i giorni nostri per vivere meglio allontanandosi da questo io secondo lei grazie io sono gestantissimo con il mio io no ma cioè non è un esercizio grazie non prenderci troppo sul serio cioè tutto sommato se voi considerate quello che abbiamo detto stasera cioè che siamo fini della natura giocati dalla natura con un nostro io che sembra che il mondo si muova sui suoi cardini diceva Nietzsche ma non prendiamoci troppo sul serio cioè se sei convinto se ti convince che il tuo io è semplicemente a parte che ci sono delle pagine di Nietzsche sull'io che sono grandiose nel senso che lui dice che l'io è il prodotto della grammatica dice perché abbiamo iniziato a dire io penso e invece non è propriamente così è il pensiero che pensa che tu sei un io è capito siamo noi che pensiamo di essere un io adesso non lo voglio complicare troppo perché siete già stanchi nella vostra mente anche se vi farebbe bene complicare la testa ho detto questo però ma che migliorare vedi già in questi comparativi c'è già cristianesimo non si può migliorare bisogna accettare la dimensione tragica che noi non siamo niente e se tu ti convici di questo ti viene una pace immenso perché il tuo io te lo porti in giro con una certa dignità e bellezza no? secondo no ma te lo dico per davvero secondo quando devi morire non fai una tragedia perché lo sapevi già prima non è che ti arriva come una roba terrificante senza dargli un eccessivo peso se noi riuscissimo a interiorizzare questa lezione di Nietzsche ma vedete quanta gente si affanna per realizzare che cosa? la notorietà il denaro la fama ma stiamo scherzando perché si prende sul serio che pensa che se non c'è lui crolla il mondo oppure che il mondo non ha significato se non è a sua disposizione i disastri che fa l'io sono infiniti sono immensi immensi però prego sì sì buonasera volevo chiederle a lei cosa lo sente? sì buonasera volevo chiederle a lei cosa consiglierebbe a un adolescente che si chiede qual è il senso della sua vita e non lo trova di smettere di fare questa domanda no ma glielo dico davvero anche perché ragazzi no anche perché ragazzi davvero c'è questa considerazione da fare guardate che la parola ha senso è un prodotto è un prodotto della tradizione giudaico cristiana è un prodotto della tradizione giudaico cristiana perché? perché il cristianesimo e il giudaismo queste due religioni che per me le tratto la stessa maniera perché il cristianesimo non è altro che un'eresia ebraica cosa fa? inventa conferisce al tempo un significato per i greci il tempo era ciclico primavera estate ottimo inverno e poi il ciclo ricomincia non c'è nessun senso c'è un'eterna ripetizione l'eterno ritorno dall'uguale Nietzsche dice stemma della necessità che nessun no contamina che nessun si seduce cioè che non puoi modificare ecco questo è il tempo dei greci i cristiani invece lo pensano in maniera lineare così combinato combinato in questa modalità che alla fine si realizza quello che all'inizio era stato promesso e all'inizio era stato promesso che se sei bravo e segui i comandamenti e i precetti avrai la vita eterna felice se non li segui vai all'inferno non parlo più ecco allora la storia al tempo è scritto in un disegno che è un disegno di salvezza e quando il tempo è scritto in un disegno non è più una ruota che gira su se stessa allora acquista senso il senso non è altro che un tempo carico di un disegno anche due giovani che si innamorano per il tempo che sono innamorati quel tempo lì non è più il tempo cronologico lunedì martedì mercoledì è un tempo iscritto in un disegno d'amore e diventa storia e anche nel linguaggio comunico ha avuto una storia che sia di dolore che sia d'amore è il tempo iscritto in un disegno allora la domanda di senso è un prodotto di questa concezione del tempo iscritto in un disegno di salvezza ma se voi siete fuori da questa logica per esempio un indiano non è che si chiede il senso della sua vita guarda il ganjo e muore il greco non si chiedeva il senso della vita semplicemente compiva se stesso nel suo insegnamento se era un uomo colto nel lavoro se non era colto e basta il senso della vita è quello che hai fatto ha un senso una direzione senso vuol dire anche direzione senso pietato vuol dire che non puoi prendere quella direzione lì la vita ha una direzione neanche l'abbiamo scelta noi questa direzione perché qui dovremmo anche dire che non siamo liberi ma questo lasciamo stare se no nasce un'altra conferenza non va bene allora è il prodotto del cristianesimo allora questo per dire che il cristianesimo non è solo una religione è una stratificazione dentro di noi ma una volta che il cristianesimo è stratificato in noi è stratificato Platone Platone è stratificato senza essere riconosciuto senza essere riconosciuto e basterebbe per esempio non so che il professore di filosofia e i loro studenti spiegassero Platone in questa maniera e facessero capire che Platone è quello che già sono è quello che già sono è già il loro modo di pensare e gli facessero vedere che il loro modo di pensare risponde a questi impianti categoriali filosofici e concludendo vi voglio dire adesso aboliranno la filosofia dalle nostre scuole però avete visto come la filosofia è importante se non c'era Platone noi pensavamo tutto in un'altra maniera se non c'era Nietzsche eravamo lì ancora a fare i cammelli intorno al bene al male insomma non lo so abbiamo un ultimo intervento ho visto che prego ho visto non c'è si sente? sì sì ho visto leggo nelle riviste che trattano filosofia contemporanea autori che trattano della filosofia della logica un tipo di filosofia della matematica insomma che non attira molto questa è una conseguenza della tecnica cioè della specializzazione o è una caratteristica della filosofia anglosassone a cui l'Italia si è agganciata e lei cosa pensa di questa filosofia specialistica? grazie dunque questa è la filosofia appunto anglosassone si chiama filosofia analitica io invece sono un filosofo continentale che gli piace la narrazione invece loro sono dei filosofi analitici che quando piove aprono l'ombrello e devono fare un ragionamento ecco questa è la filosofia analitica dal mio punto di vista mi annoio terribilmente a leggere quei libri d'altra parte però gli anglosassoni non sono in grado di fare una filosofia di derivazione platonica occidentale continentale come si chiama oggi per la semplice ragione che non hanno l'astrazione nel loro vocabolario non hanno l'astrazione non so per esempio l'espressione astratta si dice i tedeschi hanno man sagt i francesi hanno on di noi italiani abbiamo si dice e gli inglesi hanno dire you perché se non vedono lì qualcuno non sa che cosa dicano anche quando poi dovrebbero entrare nell'astratto dire qualcuno nessuno devono vedere un body anybody somebody se non vedono il body non sanno dove sono allora a partire da questo concetto e vedendo che tutta la filosofia inglese a partire da da Berkeley Hume Hobbes e avanti col positivismo Stuart Mill nell'ottocento sono sempre empiristi perché stanno sempre sul concreto non sono capaci granché di astrazione non hanno l'impersonale non rientrano nella filosofia continentale come l'abbiamo conosciuto e come la si studia a scuola dopodiché tanto di cappello non per quelli che fanno filosofia analitica che ho detto perché apro l'ombrello quando piove fa tutto il ragionamento ma per quelli che attraverso la filosofia analitica arrivano a delle proposizioni logiche molto complesse ma allora a quel punto lì è un gioco di di parentela col mondo matematico e secondo me varebbe la pena il processo dei matematici invece di fare i filosofi anche perché loro ridono di noi ci trattano come dei narrativi ci trattano come quelli che cercano di spiegare il mondo quando il mondo non è spiegabile basta constatarlo senza nessun entusiasmo e gioia insomma io gli inglesi non li sopporto insomma bene ringraziamo ancora il professor Galimberti per questa bella serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti